A diretto film molto diversi tra loro, cinema di protesta e di racconto, cinema di storia e di storie. È un regista e sceneggiatore che non teme di navigare contro il corrente. Ben arrivato Roberto Faenza. Grazie per l'invito e per questa amabile presentazione. Però tutto comincia con il diploma al Centro Sperimentale di Roma, molti anni fa. Vorrei sapere perché il cinema e che cosa andava cercando. Dunque perché il cinema? Perché ho iniziato ad amare il cinema per errore. Nel senso che quando ero a scuola, a liceo, come in quasi tutti i licei, c'erano quei giornalini di scuola e io avevo appena fatto la recensione di un film l'anno scorso a Marianne Bad dicendo che era un film assurdo, incomprensibile. Insomma, una recensione molto negativa. Mentre alcuni miei compagni di scuola avevano scritto il contrario, che era invece un film molto interessante. Da non perdere. Da non perdere. Poi lo rividi un anno dopo e ho capito che non avevo capito niente. Cioè che era veramente un grande film innovativo, sperimentale. E l'ho detto, ma se non capisco niente bisognerà che studi un po' il cinema. Allora ho deciso di venire a Roma e studiare il cinema. E così comincia l'avventura. È studente del linguaggio cinematografico e oggi insegnante, docente alla sapienza del linguaggio cinematografico. Che lingua è la lingua del ciak? Ma io penso che la lingua del cinema sia un po' la lingua del sogno, che somigli molto al sogno. Non a caso Freud era stato rapito dal linguaggio cinematografico. Nel senso che è una lingua che non appartiene molto al razionale. Appartiene più al nostro profondo, più forse ai nostri istinti, anche in una certa misura razionale. Però è un linguaggio misterioso, come sono i sogni. E quindi il cinema in realtà è un mistero, continua a essere un mistero. Regista e attori si diventa sul campo o guai a non avere i fondamentali dell'accademia, del laboratorio, di un centro sperimentale? Ma no, io per esempio ci sono dei registi, veri Tarantino, che ha imparato a fare cinema vendendo videocassette. Quindi non ha fatto nessuna accademia. Ci sono modi e modi di entrare in questo dominio studiandolo, ma anche soltanto acquisendo esperienze. Esortio con Escalation, che esce nel 68 e non può che risentire del 68. Se ho fatto bene i conti, lei aveva 25 anni in quel momento. Alla mostra di Venezia lei fu un contestatore contestato, perché dovette a un certo momento anche difendere, proteggere proprio fisicamente Pasolini dal lancio di uova. Che cosa accadde? Dunque, vedo che lei sa più di me. Accadde che eravamo appunto in questo consesso di protesta, allora si usava il termine contestazione, e ci trovavamo a prendere un battello e Pasolini era nel centro della contestazione, perché da una parte era coi protestatari, dall'altra parte però difendeva anche tutto sommato il proseguo della mostra. E venne aggredito da, credo, da gente, veramente da degli avventurieri, diciamo. E quindi io ero lì vicino, non è che sia stato eroico, ho semplicemente cercato di proteggerlo dal peggio. Ecco, poi l'abbiamo infilato in questo battello e siamo scappati, diciamo. Io non ci sarò, ma vedrai che da qui a poco quelli che oggi protestano guideranno la mostra, le disse il profetico Pasolini. È un po' il destino che non riguarda solo il cinema, quello del rivoluzionario duro e puro che poi, per usare un termine di allora, si imborgesisce come pochi, o no? Beh, nel nostro paese questo purtroppo è accaduto, ma non soltanto nel cinema. È accaduto che molti ribelli di allora poi li abbiamo trovati seduti nei consigli di amministrazione, nei grandi giornali, o comunque si sono poi dimostrati gli eredi e i figli della borghesia che loro stessi contestavano. Adesso invece le farò vedere un contestatore non più giovane che non si è piegato e che, tra l'altro, è stato lei stesso a raccontare in un film che vediamo insieme. Chi usa la violenza non è un uomo! È una bestia! Io vi conosco, uomini d'onore. So dove vi nascondete. Molti di voi sono stati battezzati in questa chiesa. Ebbene, io vi dico, voi, che siete abituati ad agire nell'ombra, se siete ancora uomini, fatevi vedere alla luce del sole, le porte di questa chiesa sono aperte per voi. Venite, io vi accolgo! Se siete ancora uomini, fatevi avanti. Incontriamoci in piazza. Parliamoci. Nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Era la storia straordinaria di un prete indomabile, Pino Puglisi, che sarà ucciso dalla mafia nel giorno del suo 56esimo compleanno, se ricordo bene, il 15 settembre del 1993. Tra l'altro c'era Luca Zingaretti che lo interpretava. Mi chiedo questo, il cinema d'impegno, il cinema che punta anche, in un certo senso, al riscatto sociale, è una nostra romantica e pia illusione alla fine? Che il cinema possa essere appunto un veicolo di messaggi, di impegno che non appartiene soltanto al cinema italiano. Mi ricordo che Disney, quando ci fu l'ultima guerra, la guerra del 40-45, ebbe a discutere con i suoi autori, perché molti dicevano, no, ma il cinema non deve veicolare messaggi, deve semplicemente divertire. Disney dice, no, il cinema deve anche veicolare messaggi. E fece molti documentari, proprio per dimostrare la violenza, l'assurdità della guerra, del nazismo. E poi fecero dei sondaggi su questi documentari e videro e constatarono che avevano cambiato l'opinione di molti cittadini americani. Quindi il cinema può anche essere questo. Anche un'altra persona, un altro giornalista portoghese, Pereira, era un uomo solo, come padre Puglisi. Lei lo racconterà in Sostiene Pereira, preso dal romanzo di Tabucchi. Marcello Mastroianni sarà il protagonista di quel film. La solitudine è qualche cosa che lei racconta per caso o per scelta? Ma devo dire che io mi identifico molto con i personaggi che scelgo ed essendo io stesso a tutto sommato un solitario, cioè io non appartengo ai circoli, non frequento gang. Quindi mi identifico... Non partecipa ai salotti? No, no, non vado alle feste. Mi identifico molto con le persone sole, perché penso che le persone sole sono poi le persone dalle quali ci si può aspettare di più. E i personaggi che descrivo, tipo Pereira, tipo Puglisi, della Luce del Sol, o anche questo ragazzo di cui adesso ho fatto l'ultimo mio film, che sono dei solitari, dei marginali, in realtà lo sono perché hanno un disagio dentro che significa sempre qualcosa di profondo. Mastroianni fece la sua ultima interpretazione in una produzione italiana con quel film. Non posso non chiederle un ricordo di questo nostro grandissimo attore. Guardi, devo dire che quando io parlo di Mastroianni mi commuovo, perché per me Mastroianni è stato l'unico vero grande uomo che ho incontrato nel mondo dello spettacolo, dove è difficile trovare persone che abbiano veramente qualcosa anche di umano. Il mondo dello spettacolo è un mondo molto violento, tutto sommato. Il successo è una pessima cosa, l'inseguimento del successo deteriora gli animi. Marcello non aveva nulla di tutto ciò, era veramente una persona normalissima prestata al mondo dello spettacolo. E di lui ricorderò sempre l'ultima immagine del mio film, che è stata anche l'ultima immagine delle scene che ho girato, quando doveva cavalcare in questa famosa via di Lisbona, a Rua Augusta, e venendo avanti doveva dimostrare meno giovani, perché andava incontro a una nuova vita, lui pur essendo un vecchio. Ed ero molto preoccupato, perché Marcello già non stava bene, era già malato. E lui mi vide preoccupato e mi disse, senti Roberto, vedrai che la farò molto bene. Io mi sono messo dentro la macchina da piano, agli occhi della macchina da piano, cosa che non faccio mai, in genere lo fa l'operatore, e vedevo veramente questo uomo che venendo avanti si trasformava, cioè diventava più giovane, assumeva un piglio forte di un uomo che va incontro al futuro con un piglio combattivo. E sono rimasto così estasiato di quella immagine, che poi l'abbiamo appunto messa nella fine del film, e quando è morto Marcello, le tisioni di tutto il mondo l'hanno trasmessa, proprio perché era, come dire, la sintesi del Marcello adulto anziano e Marcello giovane nel suo spirito, un uomo veramente non dimenticabile.